Buongiorno a tutti. Allora, le Boily sono nate a cavallo fra gli anni 60 e gli anni 70. Già negli anni 60 diversi appassionati iniziarono a muovere i primi esperimenti per rendere le loro esche dell'epoca, che erano sostanzialmente delle pastelle, oppure i cubetti di carne in scatola, oppure particle, pezzi di pane e via discorrendo, le esche classiche del carfishing. Ecco, dicevo, per renderle più resistenti all'attacco dei piccoli pesci. Dicevo, si mostrano in molti su più fronti, quindi non si può parlare di una paternità singola. Di certo è stato universalmente riconosciuto come padre della Boily, Fred Wilton, un pescatore del Kent, che ebbe la brillante intuizione di impastare con l'uovo e far bollire per qualche secondo le palline di pastella in modo da creare una crosta superficiale che le rendesse più resistenti. Guardate bene che l'amo veniva ancora inserito all'interno della pallina di pasta, e quindi c'era sì questa crosta, ma non era così dura da impedire di fatto di poter nascondere l'amo al suo interno. La paternità ufficiale viene riconosciuta nel 1972, quando Fred Wilton pubblica la sua Teoria dell'esca, e questo articolo famosissimo inizia proprio con la famosa descrizione di mescolare le farine con l'uovo, impastare e bollire per qualche secondo per creare una crosta resistente. Questa è la data ufficiale. Il vero salto di qualità avviene però grazie all'intuizione di un altro brillante pescatore, Middleton, al quale si deve l'invenzione dell'Irig, che sembra avere paternità comune con Kevin Maddox anche. Infatti viene riconosciuto alla coppia Maddox-Middleton l'invenzione dell'Irig. Qual è questa rivoluzione? L'esca non contiene più l'amo. L'esca si trova all'esterno dell'amo ed è collegata appunto tramite un sottile filo di nylon. La leggenda narra che i primi esperimenti furono fatti con i capelli della figlia di Middleton, ma è la classica leggenda metropolitana. In linea di massima usavano un nylon 010-012, che era la misura minima che si riusciva a trovare in quegli anni. Quindi esca esterna hanno scoperto e si è aperta a una nuova rivoluzione, dove il connubio esca bollita e terminale specifico ha portato al moderno car fishing.